La società si sta allargando e sempre più cittadini entrano a far parte della vita politica. Ma è un errore pensare alla società di massa come ad un ambiente totalmente democratico. Ma per il cittadino di fine ottocento, che ha studiato nelle scuole pubbliche, che ha servito il proprio paese sotto le armi e che è infine politicamente maturo, il diritto di voto non è più un'opzione, è un obbligo. Nel 1890 il suffragio universale maschile è praticato solo in Francia, in Germania e in Svizzera. Da lì a 25 anni, in quasi tutta Europa occidentale, vengono approvate leggi per allargare il corpo elettorale. La totalità o la stragrande maggioranza dei cittadini maschi maggiorenni riceve il diritto di voto. In molti casi, senza interesse per il censo. La divisione censitaria è un modo per mantenere un controllo politico sulle masse povere. Niente soldi, niente voto. Nel 1890 il suffragio universale maschile è introdotto in Spagna, nel 1893 in Belgio, nel 1898 in Norvegia, nel 1907 in Austria e nel Gran Ducato di Finlandia, nel 1912 in Italia, mentre per altri stati europei, come Inghilterra e Olanda, bisognerà aspettare la fine della Prima Guerra Mondiale. Con tutti questi nuovi votanti, le organizzazioni politiche devono cambiare per poter sopravvivere. Nascono i partiti di massa. Il primo grande partito di massa si può riconoscere nel partito socialdemocratico tedesco. Questo è basato su un insieme di organizzazioni locali, federazioni o sezioni, con a capo un solo centro dirigente a cui tutte le sezioni rispondono per organizzarsi. Ed è in questo periodo che le organizzazioni sindacali esplodono. La nuova coscienza dei lavoratori, grazie alla forza del movimento socialista, si tramuta in azione. Negli ultimi anni dell'Ottocento, i sindacati inglesi, le trade unions, contavano già un milione e mezzo di iscritti. In altri paesi, i nuovi sindacati si federano a livello nazionale. In Germania nasce la Commissione Centrale dei Sindacati Liberi Tedeschi, fondata nel 1890. La Confederation General du Travail, o CGT, viene fondata in Francia nel 1895. E in Italia, nel 1906, nasce la Confederazione Generale del Lavoro, o CGL. Il fenomeno, definito associazionismo popolare, è il più vasto che l'Europa abbia mai visto. Nel 1914 sono iscritti ai sindacati 4 milioni di lavoratori in Gran Bretagna, 3 milioni in Germania, 2 milioni in Francia e mezzo milione in Italia. Ma se i lavoratori stanno iniziando la loro lunga lotta contro il padrone, visto come sfruttatore e dedito solo al guadagno, una nuova questione si presenta a questa società che si sta formando, quella femminile. Nonostante i primi movimenti di emancipazione femminile risalgano alla rivoluzione francese, alla rivoluzione industriale inglese, dall'epoca ben poco era stato fatto per migliorare la condizione della donna nella società. Alla fine dell'Ottocento, le donne sono escluse dappertutto dall'elettorato attivo e passivo. In alcuni paesi, perfino l'educazione superiore universitaria e alcuni mestieri sono vietati al gentil sesso. Solamente stati minori o semi-indipendenti, come il Gran Ducato di Finlandia o la Norvegia, riescono a dare il diritto di voto alle donne. Per le lavoratrici, ovviamente con paga nettamente inferiore a quella degli uomini, la sensazione non è di emancipazione, ma di dura necessità. Il lavoro è al momento solo un modo per sfuggire alla povertà. Ma con il cambiamento della società, con l'aumento dell'informazione, della scolarizzazione e della politicizzazione delle masse, anche le donne diventano coscienti dei loro diritti. Le lavoratrici di fabbrica iniziano a far parte delle lotte sindacali di fino a 800. Il movimento è però ancora acerbo. L'emancipazione femminile rimane obiettivo di circoli intellettuali o di attiviste, operai e senza un seguito consistente. In Gran Bretagna però si vedono i primi successi del movimento, grazie ad Emeline Pankhurst. Fondatrice nel 1902 della Women's Social and Political Union, la Pankhurst riuscì a portare all'attenzione dell'opinione pubblica la questione femminile. L'obiettivo della Union, il suffragio femminile, da cui il nome suffragette, è portato avanti con azioni eclatanti di protesta, scioperi della fame, marce e dimostrazioni. Il supporto politico al movimento all'interno del Parlamento sarà prettamente laburista, mentre il movimento operaio si rivelerà abbastanza freddo rispetto alla questione femminile. In ogni caso le suffragette otterranno i loro risultati vittoriosi. Infatti nel 1918 in Gran Bretagna verrà esteso il voto anche alle donne. Perché molti dirigenti socialisti non vedono di buon occhio il voto femminile? Alcuni temono che le donne avrebbero votato partiti più centristi o di stampo cattolico. Altri vedono nel ritorno tra le mura di casa la naturale soluzione alla questione femminile. Infatti le donne guadagneranno ben poco dalle loro lotte. Pensate che al 1914 avevano ottenuto soltanto il diritto all'istruzione superiore e l'accesso a nuove professioni. Insomma, il diritto di voto sembra ancora molto lontano. Mentre il diritto di voto per le donne è ancora lontano, il suffragetto universale maschile avrebbe cambiato lo spirito con cui la classe dirigente si occupa dei propri elettori. Grazie alle lotte sindacali arriveranno nei maggiori stati europei l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza per la vecchiaia, i sussidi per i dosi occupati, controlli di sicurezza e sanitari nelle fabbriche, diminuzione del lavoro minorile, limitazione agli orari giornalieri degli operai e il diritto al riposo settimanale. Queste sono tutte riforme statali, arrivate dopo pressioni da parte dei sindacati sul potere centrale. Allo stesso modo le amministrazioni iniziano a lavorare sull'estensione dei servizi pubblici per aumentare la qualità della vita dei cittadini. Gas, acqua corrente e trasporti iniziano ad essere parti integranti delle città. L'iniziativa si spinge oltre alle infrastrutture. Vengono costruite scuole, biblioteche, musei per l'istruzione, ospedali, ospizi, asili per l'infanzia, per l'assistenza e infine iniziano le grandi opere di edilizia popolare. L'aumento delle spese da parte dei governi centrali e delle amministrazioni locali porta ad una spasmodica ricerca di fondi. Nascono nuove forme di tassazione. Le tasse dirette scalzano quelle indirette e nasce qui il concetto di progressività del carico fiscale. Il concetto di tassa progressiva è molto importante. Il povero non è più tenuto a pagare quanto il ricco, ma il cittadino è tenuto a pagare le tasse a seconda delle proprie possibilità. Questa pratica è odiata dalle classi più alte della società, l'ennesima riforma che va ad erodere il predominio delle antiche forze sociali europee, come la nobiltà o i possidenti terrieri. È evidente che questi fenomeni, dai movimenti sindacali a quelli di lotta operaia e di voto, hanno un protagonista più o meno velato. Una nuova grande ideologia si sta imponendo in Europa. Il socialismo. Grazie a tutti.